Al Vicen c'è un'e regule Il relazio social ma non socievole E al Crotin tu le fantasie Emociò ma riportalo sulle drag e bie Ti lasse letto libertà Tu ti muovi tuo se tu stisci là Non ti fass mai vai Se no di gusti, lius quest, ma che sconto le stilisti Il so tra la leonchia sal, disponibili il sun d'un altri planet Ma tutto a suo livello e le lune, le lune perfette C'è un punto ai voi, non dai capacità Si confessami di tutti i pechiasi Io ho i fass e pensassi Possibile che non sei un'ombi marmol Dicchia come un piarcio di madura con un scrupul Divele veretà, tu amaculo non è falso E se non è stato società, tra le domande amasse L'ambizione è forte, concentrata e tutte le plan Scari di una battaglia con l'egonistica umana Magari piardute in partenza Ma ogni Dio impari a confrontarmi con tu un gran avversario Tu non sbastard, scarse che rubi i passi Queste volte non sai, se le dici chi fassi E le belle guerre da gnar Tu non sbastard, scarse che rubi i passi E le volte non sai, se le dici chi fassi E le belle guerre da gnar E le volte non sai, se le dici Da nattamente Iiii Sanità di sbastard, scurre di uomo Scurre di pochi scrutti Scurre di pochi buiumi D'alcorri e tancchi sciumi D'ora al null, il spirito e un storia da lavigli Ma chi mi fa scurre di prevevo e di aspirare Ma il colpa non è voluta a respirare Un baraccio di pochi, lo sa gulè che l'orgoncio del coi Si rifiuti, ma un'evento guida non ho deciso, si telega un effetto al profete Sei a spiette, dirai di tette, dosi id, mi parla al minimo, al minimo torno Resta pavigli le domenie veie, yo, e su talon di chile, no laune è uscente Parteci le guanche caillane gem, direttamente in nome di zanata man C'u' non sbastos , C'u' non sbastas , C'u', non sbastas E' gente molto 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 brava in quello che fa, secondo la mia opinione, poco esperta. Spero vi piacciano. Lo sono i DHL Posse con un pezzo che secondo me è molto divertente. Adesso che ti miglioro. Sono cambiate molte cose, credo, in questi ultimi periodi. Vero, DLH? Sì, sì, sono cambiate molte cose, non solo a livello musicale, ma proprio anche i personaggi che girano attorno al nostro gruppo sono aumentati, qualcuno si è tolto. E ogni persona nuova ha sempre portato robe nuove da provare, da fare e da far assaggiare soprattutto al pubblico che guarda i live e gli spettacoli.